Nelle prossime ore giungeranno a Venezia 16 maxi yacht che saranno timonati da 16 skipper di fama internazionale. Giungeranno a Venezia per sfidarsi sabato 15 ottobre nel bacino di San Marco in occasione della nona edizione della Venice Hospitality Challenger, contendendosi il cappello del doge. All'evento sarà presente il presidente della Federazione Italiana Vela, Francesco Ettore. La Venice Hospitality Challenger è l'unica regata al mondo che si disputa interamente nelle acque interne di una città, un'occasione da non perdere. Questo consentirà al pubblico di seguire la regata dalle rive del bacino di San Marco, da Punta della Dogana, dalla Giudecca e dalle Zattere, o da casa, seguendo lo streaming dalla pagina Facebook della Venice Hospitality Challenger. La flotta sarà divisa in due categorie che partiranno a un paio di minuti di distanza. La telecronaca sarà realizzata da Alessandro Pavanati, mentre il commento tecnico è affidato ad Enrico Zennaro, vincitore di ben tre edizioni della Venice Hospitality Challenger. La premiazione sarà alle Zattere presso la banchina Venice Yacht Pierre. Grazie a tutti.